Salve carissimi amici, tutto Ubi, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti, se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi vi parlo di Superman, identità segreta. Storia di Kurt Busiek per i disegni di Stuart in Monen, presente qui all'interno della collana Supereroi, le origini di sì, precisamente come si vince dalla costina, lo vi vincete poco da quel lato, è il numero 39. Che per l'appunto ho preferito ad altre edizioni più blasonate perché essendo economica io mi ci trovo sempre piuttosto bene, comunque il formato è più grande di un comic book americano, la carta tutto sommato è buona e rende molto bene i colori e i disegni di in Monen. Dopo la sigla vi dico due parole della storia e vi dico se mi ha convinto o meno. Sigla. A livello di extra si può dire che c'è un intro strana che riguarda il modo in cui il mondo del cinema si è incontrato col fumetto che non c'entra assolutamente quasi nulla con la storia che andremo a leggere e poi un breve escursus sull'identità di Supereroi, quando è stata svelata, quando non è stata svelata, che ci va un po' a introdurre anche la storia che andremo a leggere di lì a poche pagine. Mentre invece nel finale abbiamo delle note di chiarimento, di approfondimento, una paginetta sulla storia che abbiamo appena letto. La storia è composta da quattro capitoli, non so perché nella mia testa erano tre, ma in realtà sono quattro, poco male, per un 200 pagine indicativamente. L'inizio di ogni capitolo americano, e questo non è facilmente vincibile, visto che all'interno di questa edizione tra un capitolo e l'altro non hanno inserito le copertine, cosa che secondo me avrebbe reso l'albo davvero migliore rispetto a com'è in questo momento, ma ce lo facciamo andare bene comunque. Ci sono delle vignette vintage che credo riprendano un po' le storie vere di Superman, anche se non ne posso essere convinto e sicuro al 100%. Di che cosa parla questa storia? Questa storia ci parla di Clark Kent, un ragazzino che abita in una cittadina del Kansas, la sua famiglia sono i Kent, vivono in una fattoria, ed è del tutto identico al Clark Kent alias Superman, se non fosse che questo dovrebbe essere il mondo reale. E Superman di fatto è un fumetto che il nostro protagonista un po' detesta e un po' mal sopporta, perché tutti lo prendono in giro, visto che si chiama proprio Clark Kent, come quell'eroe dei fumetti, e quindi viene un po' sbeffeggiato dalla sua classe, dai suoi compagni, non è una persona chissà quanto ricca di amicizie e quant'altro, fino a che a un certo punto, una sera, mentre decide di fare un campeggio da solo, in solitaria, non scopre di avere i poteri, i superpoteri. E non solo scopre di avere dei superpoteri, ma scopre di avere gli stessi superpoteri di Superman, un po' come se il nome, il suo nome, fosse correlato a quei poteri. Non sa bene quale sia, perché abbia questi poteri, non sa bene che cosa farne di questi poteri, ma man mano che la storia andrà avanti, deciderà di diventare sempre più simile a quel Superman del mondo dei fumetti, che fino al giorno prima aveva detestato, perché gli ricordava fondamentalmente di essere una macchietta comica, cercando di mantenere segreta la sua reale identità, cosa che lo porterà ad essere sempre in mezzo a situazioni strane, fuori di testa, decisamente più legate al mondo del fumetto, e braccato costantemente dagli agenti federali, che vorranno capire di più di lui, di che cosa stia realmente facendo, e del perché c'è questo Superman in giro. È una storia che vuole essere decisamente più intimista. Lo vediamo questo perché, vi faccio vedere una delle pagine più belle, a mio parere, del primo capitolo, verso la fine del primo capitolo, quindi non sono andato neanche troppo oltre. Abbiamo queste didascalie che, come possiamo vedere, sembrano ritagli di giornale, che sono il diario che il Clark Kent sta tenendo man mano che racconta di sé fondamentalmente. Quindi è una visione molto introspettiva, molto interiore del personaggio, che man mano che la storia andrà avanti, maturerà, crescerà, vivrà la sua vita, diciamo, naturale, con gioie e dolori, scoperte e quant'altro sulla sua reale identità. È una storia che, ripeto, vuole essere molto intimista, quindi non è una storia per chi vuole vedere botte da orbi, quelle in questo albo sono decisamente limitate e poco importanti, tutto sommato, ma è una storia che vuole parlare di un romanzo di formazione, di crescita del nostro eroe, e dalla sua giovinezza, fino ad un certo punto della sua vita. È un albo che mi è piaciuto molto per come è scritto, per questa visione introspettiva del personaggio, ma soprattutto perché non vuole raccontare un simile Superman. Il protagonista non è Superman, non è Clark Kent, e sulla base della differenza che ci sono tra due personaggi si può evincere quanto sia importante il personaggio di Superman all'interno del mondo fumettistico, con le sue contraddizioni, con i suoi continui giochi e rimandi. È una storia semplice, ma ben congegnata, divertente, laddove vuole essere per l'appunto divertente, ma che invita a riflettere sul ruolo di Superman, e soprattutto su quanto possono essere cattivi i genitori che ti danno un nome, che non è proprio un nome, forse non è il caso che ti venga affidato. Al di là di questa, una lettura straconsigliata, e sulla quale non mi sento di dire di più per non entrare in dettagli spoilerosi, invitandovi nel caso al recupero. Questa edizione qui, che consta comunque di oltre 200 pagine, costa, se non ricordo male, 6,99€, quindi è anche un formato tutto sommato comodo, economico, pratico. La storia c'è tutta, non c'è una cover gallery, ci sono però due o tre extra di approfondimento, che male non fanno e che anzi, se non avete mai letto questa storia, se non la conoscete, e se non siete molto addentro all'universo DC, vi danno anche modo un pochettino di orientarvi, cosa che male non fa. Quindi lettura straconsigliata, in questo formato, o in altri anche più blasonati. Visivamente, in Monen fa decisamente un bel lavoro di chiaroscuro, non è mai un tratto super mega dettagliato e pulito, ma avete visto qualche tavola in qua e là che vi ho fatto vedere, si presta molto, vi faccio vedere altre tavole, si presta molto a mostrarci questa realtà non realtà. Fino ad un certo punto credevo che si volesse un po' andare a rispolverare il mito di Superboy, di Superman Prime fondamentalmente, di Superboy Prime, visto che l'Incipit è più o meno lo stesso, intendiamoci, anche lì avevamo un ragazzino amante, in quel caso amante di Superman, che leggeva i fumetti di Superman per poi scoprire di essere Superman, qui abbiamo la stessa cosa, ma la direzione presa dal Superboy Prime, in Crisi sulle Terre Infinite e poi su Crisi Infinita, credo, è molto differente e questo personaggio qui non fa parte della continuity DC, è stato esattamente un divertissement da parte degli autori, per andare a riflettere su chi sia e su che cosa rappresenti il personaggio di Superman. Questo è quanto avevo da dire per voi per oggi, vi invito nello spazio dei commenti a dirmi la vostra, avete letto questo volume, non l'avete letto, lo conoscevate, lo prenderete, discutiamone, parliamone come sempre qui sotto nello spazio dei commenti di YouTube, da Francesco, dalla soffitta di Camera Mia, è davvero tutto, e noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!